allora la devi smettere quel fico qua è un fico di autore che non devi ammazzarlo mi ammazza tutto il fico cazzo tutta mattina che sono fatto a tagliare giù il fico porca miseria è buono adesso invece di là si quello si sicuro e qua vengono delle belle foto però mi devo mettere di là bisogna metterci dentro uno un po più piccolo bisogna metterci dentro un altro legno in mezzo il barbano e ieri provocare la sede avutato a avutato 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 un ucino e una volta che lo faccio come lì ma non si fa male ma lui la fa facile ah bravo ah volevi fare il numero ah ok ma fa la contrario troppo facile mi usura il tubo il contrario l'uomo ragno l'ha già misurato quel tubo là no è quello là che ha misurato che ha capottato indietro dov'è la moto cioè e dai bella via davanti che sto sdraiati sdraiati se ti vedo lo stesso sdraiati oh giù 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 bene oh boh a posto lui sta a posto qua vai ste ste vai 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 dagli devi saltarlo via fai da invito oppa no vabbè ma aiuta gli amici a far da invito che cavolo così hai già provato eh e ho visto il cielo te sei impazzito te la mia è più bassa della sua sì ma c'è un cavallo imbizzarrito te mi ha fatto spaventare di bestia ma come mai va su quel di bene eh certo 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 che va su per quello che va su per quello